Quando mi è arrivata la proposta di partecipare a questo progetto da Gramsci Campo Sud ho accettato perché sia il lavoro mi sembrava molto interessante, il festival mi sembrava anche con una buona programmazione e poi inoltre sono molto legato alla Sardegna e al tema che mi è stato proposto, quindi lavorare su Gramsci e lavorare su Gramsci e la natura. Tra le varie richieste c'era quella di realizzare un'opera permanente sulla terrazza del teatro che avesse a che fare con un giardino, quindi leggendo le lettere dal carcere ho scoperto che Gramsci faceva un giardino dentro il carcere, quindi abbiamo dovuto fare un giardino gramsciano e ricordare che trae ispirazione da quella sua esperienza. Gramsci quando coltivava delle piante in carcere faceva delle riflessioni sulla società vedendo crescere le piante e ho trovato questa cosa molto delicata e molto interessante e su questo ho creato l'opera. Anche il mio lavoro si basa molto sul rapporto con la natura e quindi ho trovato il match su questo concetto per realizzare il lavoro e in particolare ho voluto riflettere sul ruolo dell'intellettuale nella società, come il ruolo delle piante e degli ecosistemi. Infatti le piante hanno un ruolo di bonifica degli inquinanti prodotti dall'uomo negli ecosistemi come secondo me il rivoluzionario o l'intellettuale organico, come dice Gramsci ha un ruolo di riequilibrare alcune situazioni nella società quando le società sono liberticide o autoritarie. Questo giardino che lascio qui al teatro vorrei fosse un punto di incontro e un punto di riflessione per tutta la cittadinanza. Infatti quest'opera è stata realizzata in maniera partecipata perché una parte delle piante raccolte per il giardino è stata fornita da un sponsor che è la ditta Sgarabatti e invece l'altra metà delle piante sono state portate in questi giorni dai cittadini. Su questo giardino è anche un omaggio alle piante della Sardegna, quindi a quelle piante che riescono a crescere nel clima mediterraneo con poca acqua. È un parallelismo con la condizione di Gramsci in carcere Gramsci era in carcere durante il fascismo e parlava di idee di libertà anche in condizioni avverse come le piante della Sardegna riescono a crescere con un ecosistema arido, sempre più arido a causa anche delle condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici. Sono venuto qui con un'idea che poi è diventata più solida durante la residenza ma senza opere. L'opera è stata realizzata qui grazie all'aiuto di tutta la squadra di tecnici del teatro che ha lavorato con me a stretto contatto ha lavorato tantissimo devo dire questi giorni e quindi è anche un po' loro l'opera di Basilio, Luic, Jan, Soffolo e Massimo e quindi devo veramente ringraziare la sinergia, l'empatia che c'è stata con loro che hanno realizzato l'opera e quindi ringrazio loro e ringrazio il direttore del teatro e tutti voi del teatro che ci lavorate.